Un patto di collaborazione per promuovere e valorizzare la cultura del territorio è quello che sarà presentato lunedì. Il patto di collaborazione tra i poli bibliomuseali e i soggetti privati che operano nell'ambito culturale e sociale. Raccontare il territorio attraverso un'alleanza pubblico-privato, un doppio appuntamento organizzato dalla regione per presentare il nuovo patto di collaborazione tra i poli bibliomuseali di Foggia, Bat, Brindisi e Lecce e le associazioni attive nell'ambito culturale e sociale. Si inizia lunedì da Palazzo Dogana, sede storica della provincia di Foggia, in piazza 20 settembre con replica poi mercoledì 6 dicembre al Museo Castro Mediano di Lecce. Aperte al pubblico e le associazioni che già hanno siglato un patto di collaborazione con i poli, i due incontri dal titolo Patti di collaborazione per una poetica degli spazi serviranno ad illustrare i risultati raggiunti e le nuove regole della sottoscrizione. Associazioni, imprese, culturali, cooperative, organizzazioni non governative, aggregazioni di cittadini, portatori di interessi collettivi, espressione dell'associazionismo culturale e sociale che operano sul territorio potranno dunque usufruire di spazi e servizi gestiti dai poli, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio, gli spazi e servizi delle biblioteche e dei musei regionali in un'ottica sempre più inclusiva, imparziale e democratica capace di colmare il divario territoriale, digitale, culturale, sociale ed economico, una sinergia pubblico privato che si propone di valorizzare le attività di laboratorio, espositive, di ricerca e di studio, i lavori di gruppo, la formazione in presenza e online, la progettazione. Da alcuni anni stiamo assistendo ad una rivoluzione culturale e sociale che rende ancora più centrale il ruolo delle biblioteche e dei musei, che da luoghi di conservazione si trasformano sempre di più in luoghi della conversazione, dice Aldo Patruno, il direttore del Dipartimento del Turismo e della Cultura della Regione Puglia, che continua poi a coinvolgere la società civile, a renderla protagonista, è una metodologia vincente per intercettare i bisogni formativi ed informativi, estendendo i servizi anche a fasce di popolazione che abitualmente non rientrano tra i fruitori degli spazi culturali.